Anche in Abruzzo i cittadini potranno partecipare alle attività della regione con la nuova bozza di legge dal titolo Disposizioni, la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali che ha l'obiettivo di coinvolgere i soggetti sociali organizzati in forme democratiche nell'elaborazione e nella formazione delle politiche regionali. In sostanza i cittadini potranno anche attraverso una piattaforma online esprimere la loro partecipazione nelle decisioni importanti come l'istituzione di una legge. In concreto cosa possono fare i cittadini? Possono partecipare attraverso una piattaforma informatica che verrà gestita dalla direzione generale mediante il proprio ufficio relazioni con il pubblico alla formazione delle leggi e di altri atti di carattere provvedimentale della giunta regionale.